8 postazioni E la madonna quante cazzo ne avete messo E la madonna ma che cazzo è Ho già capito che sarà la fiera dei led oggi Ma cosa sei dietro là? Che cazzo è sta roba? Questo gioca da pad, xbox PC portatile e cacciatolie Tastiera Logitech Questa è stata la mia prima tastiera da gaming È la K120 mi pare Eh vecchio dipende la porcata che hai fatto Non male si può fare di meglio però Il lanfri postazione è bella pulita devo dire Allora peccato per il mouse Perché è una merda Cioè nel senso è un mouse di 90 anni fa Non so cosa sia Però il resto della postazione ci sta è pulita Cioè complimenti è bella Bella scrivania Arredato anche cioè bene è clean è pulito Ci sta non c'era non è male Questo qua Com'è gioca così ragazzi Si siede così sulla È così tipo È girato di schiena Col portafoglio lì Che cazzo devi fare col portafoglio sulla scrivania Six postazione non male Sinceramente non male Non male devo dire Gestita abbastanza bene Mouse buono Tastiera ok Tappettino un po' In senso un po' da rivedere Dovrebbe avere Minchia il ventolino Questo qui di emergenza Interessante Ma funziona bene Sto ventolino Vediamo questo le porcate Che tiene nel computer Sto usa brave Già che usi brave Veramente grave Poi non si sa Computer Allora Bellissimo perché Computer tutto microsoft Non qua Cioè non gliene frega un cazzo Lui praticamente Lui dice Cioè È come se io giro con l'air force 1 Air force 1 Però ci metto sopra il logo dell'anidas Così a cazzo proprio Sì Provera l'ignoranza dici E la madonna Ma dove cazzo siamo qua Il papete amici di Riccione Porca troia Ma cosa vogliamo fare qua Dio bono Cazzo è tutta sta attrezzatura D'arredamento Allora Bentornato un minchia voletto su una roba Allora Questa è una postazione Da console Perché il ragazzo Penso giochi prevalentemente Da console Mi viene da intuire Tastiera bella Tappetino carino Però non da gaming Cioè nel senso Magari anche da gaming Il tappetino Ma con questo tappetino Cioè esci fuori In 3 secondi Infatti È da pad Perché Ci può vedere qua Che c'ha i dildi portatili Sul C'ha i dildini Bellissimo perché C'ha un dildino più basso E uno più alto Ma io non vorrei dirtelo collega Però solitamente Minilano Funzionerebbe così In realtà Di solito Si usa più alto Quello della mira E più basso Quello del movement Però Esatto Tix Infatti Infatti Io te lo dico Perché un minimo di esperienza Ce l'ho nel settore E ti posso dire Di regola Ripeto Di regola I dildini Vanno messi nel verso opposto Cioè di regola Vanno messi In quello della mira Che è quello a sinistra Alto E in quello del movement Per amere un movement Diciamo più reattivo Più basso Infatti è così Infatti è così Il cazzo Quello di destra È più alto Ah quella a sinistra È per muoversi Ah ok Minchia Sono ribaltato Fradici Non c'avevo più un'idea Alla sinistra È per muoversi Ah cazzo Ci avete ragione Minchia Sono ribaltato Ma che la foto è specchiata No Non è specchiato un cazzo È solo che Senso Non ci avevo pensato È vero Avete ragione Cazzo Delbenti Tappetino Che è grande Cioè Ma che tappetino Ti sei fatto fare Di buono Ma che cazzo è Però Non male Devo dire Allora Interessante La postazione Non riesco a capire Se sei dentro Una culla O se sei In mansarda Cioè Non è che riesco A capire molto bene Il bluietti lì Non so che cosa Possa catturare Però L'importante È che vada bene Puttana il Daniele È la madonna Daniele anche lui Col vino in ventilatore Va di moda raga Non sapevo Andasse di moda Sto ventilatore Anche lui Con la pietra pomice Ragazzi Con la pietra pomice Il Daniele Secondo me La sera Si mette a fare Tipo A leggere un pochino Le carte Eh sì Un monitor Che qua C'è C'è proprio A rischio caduta Ma cazzo Ma dico io Ma ti lo un po' più in su Voglio dire Sappetino con 4 cm di spazio Per muoverlo Praticamente sei così Sei tipo Aigio In custom Guarda la parete Già Guarda Il post di Stranger Things Sincero Cioè guarda Lo potevo vedere Cazzo da uno Che va all'elementari Sei 40 anni Daniele Dio buono Il Matt invece Manda la sua postazione Allestita su due pezzi Due pezzi Possiamo denotare Proprio Cioè assemblata artigianale Però non male Non male Se non fosse che il tappetino Cazzo Sono 4 cm Cioè voi raga Sincero sottovalutate troppo Il tappetino Il tappetino è fondamentale Come cazzo fai a giocare Su 4 cm Lo sfondo bellissimo Uno dei migliori Sincero Il bubble Che manda la sua postazione Cazzo artigianale Dire poco Basta 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 Di merda Al bubble Il tappetino Giochi sul legno Vendi tutto No Nico Grazie per i 13 Cosa vogliamo fare Vogliono giocare sul legno Proprio sul legname A secco Porca troia Un po' grave Abbiamo lo spalu Guarda lo spalu Con le foto dei familiari Quale scritti Fai ciò che ti rende felici Felice Ricchi Finché Ti recupero Amen Ti si vuole bene Dio Siamo proprio così Anche lui con la pietra pomice Qua sul tavolo Dici nel caso Che va male Una casca Prendi Bob Te la dà in testa A secco Proprio per la testata Però Devo dire Line up Niente male Se non fosse Metti che dai una botta Anche solamente di braccio Che viene giù Che viene giù tutto Fai l'esploratore Nonna a 1927 Non c'è di questo Dice se un giorno Appoggia Di notte E' buio Non c'è di questo E' una merda Aspetta un attimo Eravamo arrivati qua Dal Pippo Pippo Bella postazione A secco Con un bicchiere vuoto Un panno Per ripulire Proprio la sbucciata Sta Il problema è che E' tutto storto Cioè non so In quale monitor Giochi dei due Appettamente storto Non so in quale monitor Giochi dei due Appettamente storto Tutto qua La postazione Niente male Devo dire Interessante Anche qua Sembra di entrare Cazzo giù Al battigia A cesenatico E Il problema Che mi viene subito E Come cazzo fai a giocare Che c'è tutta la scrivania Che è storta Cioè c'è il tappetino Che cade giù Penzola giù Qui E c'è pure il dosso Cazzo Sembra di essere In prova speciale Poi qua abbiamo L'STM pin Ah no aspetta Questo ho mandato un video Bella questa Cazzo Bella Madonna Cazzo Un po' più da lontano Magari capivamo qualcosa Cazzo Siamo dentro Il monitor Siamo dentro Non capisco un cazzo Vabbè ci sta Ci sta Il pinni Con la monster dorata E la piantina Anche lui In arredamento Doppia piantina Addirittura Però ci sta Alla fine Molti da Molti da console Questa Bella Bella Building Champions Bella la scrivania Questa cos'è Una luce Questa forse è una console Non riesco a vedere bene Tappetino ci sta Monitor Penso è un 240 Si può stare Forse è la Rossi Di scrivania Non lo so Solito Fa loro Ste scrivania Così Ma cazzo Ma questa è uguale Identica Alla mia vecchia Praticamente Postazione Mi sembra La postazione Di snagged Era uguale A questa Come gioco Da telefono E la madonna Addirittura Col monitor Inclinato Per fare Il guardone In giro Puttana Comunque in molti Hanno il secondo monitor Io personalmente Il braccio Per tenere i monitor In piedi Così Non mi piace Cioè Non ce la faccio Non so Non è qualcosa Che proprio Non mi convince Da me Il dummy Gran postazione Addirittura Triplo monitor In uno Mette la live In uno Tiene discord E nell'altro Gioca Da console No da pc Porca troia Però il cazzo Il tappetino Della titanwolf Si può fare qualcosa Zio porco Dammi gran postazione Niente da dire Dare la serpe La serpe Da padre Ragazzi Anche lui spinge Da console Xbox serie Nuova Il bundle qua Della 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 storm Che cazzo è qua Della tsunami Che ti esplode Nelle mani Argento 2 Rovinata Qua con la paletta Di colori Di giotto Mi ha demana Sempre Siamo in game Sì Deveme Estar pronto Arrivo Siamo in game